La Mandragola, una delle opere più famose della letteratura teatrale italiana, è in effetti una delle commedie più antiche che siano state scritte in volgare italiano. Risale al 1518, quindi appena dieci anni dopo La Cassaria di Ariosto. La Cassaria di Ariosto, la cito qui perché è la prima opera, è nota per essere la prima opera teatrale, una commedia anche in questo caso scritta in volgare della letteratura italiana. Teatro infatti dopo i fasti dell'epoca classica aveva avuto durante il Medioevo una lunga eclissi, era stato anche mal visto dalla chiesa, existivano sacre rappresentazioni, opere dilettanti, ma nessun autore si era veramente dedicato alla scrittura e ai testi teatrali. Nel Rinascimento collegandosi alla commedia classica, in particolare Plautina come vedremo, Ariosto riprende questo genere e Machiavelli è uno dei primi epigoni, uno dei primi autori che si cimenta in questo genere. In realtà scrisse due commedi, la prima La Mandragola, successivamente La Clizia, anch'essa rappresentata con grandissimo successo, ma letterariamente meno significativa, per questo noi ci soffermiamo sulla Mandragola, è in effetti considerata un capolavoro, potremmo dire anzi il capolavoro della letteratura teatrale rinascimentale. Prima di passare a vedere personaggi e trama vorrei fare due parole, una breve chiosa, sul titolo. Il titolo richiama una radice, una pianta, resa nota recentemente anche da Harry Potter, in quanto fin dall'antichità era considerata una pianta particolarmente utile alla preparazione di pozioni. Perché? Beh, perché vista la sua radice un po' particolare, qui la vediamo in una foto reale, la sua radice ha a un certo punto della maturazione, una forma vangamente antropomorfa. E quindi era considerato in qualche modo una via di mezzo tra, modello di congiunzione potremmo dire, tra la forma di vita vegetale e animale, e umana anzi. E proprio per questo le si attribuivano varie virtù magiche, tra cui anche la possibilità di curare la sterilità femminile, motivo che poi tornerà in questa commedia, come vedremo. Tra l'altro in quest'altra immagine si vede come doveva essere raccolta la radice di mandragora, poteva anche essere molto pericolosa, si diceva, in quanto proprio perché era una persona quando veniva raccolta poteva mettersi ad urlare, a urlare con una tonalità così forte e violenta da uccidere il marcapitato che aveva raccolta. Quindi cosa doveva fare? Doveva legare un cane alla pianta e questo cane in girando l'avrebbe estirpata e sarebbe stato lui quindi a sentire il tremendo suono. E così, diciamo, l'uomo sarebbe sopravvissuto a scapito del povero cane. Ovviamente sono tutte le gente, la mandragora è una pianta come tutte le altre, che però ha una grande storia letteraria consacrata da questa commedia, di cui adesso vediamo brevemente la trama e i personaggi. Io qui in realtà ho elencato i personaggi, ma li conosceremo via via che si narra la trama. Il punto di partenza è questo callimaco, questo callimaco che è un giovane innamorato, e come vedremo in tutte le commedie classiche c'era un giovane innamorato, orfano, ricco, che è stato lungamente a Parigi e finalmente è tornato a Firenze, diciamo un giovane nel pieno della sua forza e del suo interesse per le donne, in particolare per Lucrezia. Però di questa Lucrezia lui si è innamorato senza mai averla vista, solo perché a Parigi, parlando di donne come spesso si fa tra giovani, aveva sentito dire che Lucrezia era la donna più bella di Firenze, anzi era talmente bella che da sola portava gloria a tutto il genere femminile della sua terra. E per questo torna a Firenze col preciso obiettivo di conquistarla insieme al suo servo Siro, che lo aiuterà, anche questo tipico delle commedie classiche, c'è un servo, in latino la commedia plautina è detto il servus callidus, cioè il servo astuto, che aiutava il padrone a raggiungere i suoi obiettivi. Poi c'è appunto Lucrezia. Lucrezia, dicevamo, è una donna giovane, bella e assolutamente virtuosa. Virtuosa e sposata a Nicia, che al contrario è anziano, ricco, ma anche piuttosto sciocco. Questi due, questa coppia ha un problema, cioè non riescono ad avere figli, cosa che è assolutamente tremenda per Nicia. Cerca in tutti i modi di risolvere la questione. È proprio grazie a questo Callimaco potrà cercare di avvicinarsi a Lucrezia. Effettivamente Nicia è piuttosto, cioè vuole fare di tutto per avere figli, però pur essendo lui anziano e la moglie invece giovane, si convince che la colpa della mancanza di figli sia della serilità di Lucrezia. Non gli passa neanche per la testa che lui, in quanto anziano, possa non essere più efficace come un tempo. Cosa che invece passa assolutamente per la testa agli antagonisti, diciamo, anzi al protagonista Callimaco e ai suoi aiutanti, che sono Siro, il suo servo e questo Ligurio, un parassita di Nicia. Parassita vuol dire anche un personaggio tipico della commedia classica che cerca di spillare soldi a Nicia. Ed è in realtà lui il vero motore dell'azione, il personaggio più intelligente, più astuto, colui che ordisce tutta la trama. E qual è la trama che serve a portare Callimaco alla conquista di Lucrezia? E questo. Proprio sfruttando il desiderio di Nicia di avere figli, gli viene consigliato di portare, di mandare Lucrezia a fare dei bagni termali. E tra l'altro, però questo diciamo viene un po' sconsigliato, viene messa la pulce nell'orecchio a Nicia che potrebbe anche darsi che nei bagni termali, conoscendo nuovi giovani, potrebbe succedere qualcosa. Sicché viene proposta un'altra soluzione, ossia somministrare una pozione a base di mandragola, appunto, da cui il titolo. Tra l'altro, tutto questo avviene con l'appoggio di Callimaco stesso, che viene travestito da medico e si presenta allo sciocconicia come appunto un professorone che conosce tutti i rimedi per questi mali. Ovviamente assolutamente interessato. Questa mandragola, questa pozione di mandragola ha la virtù di rendere fertile Lucrezia, però ha un piccolo difetto, ossia che il primo che giacerà con Lucrezia è destinato a morire. Nicia ovviamente non è tanto contento di questa ipotesi, ma subito gli viene proposta una soluzione. Cioè, senti, Nicia gli dicono, facciamo così, sottopugniamo la pozione, poi subito dopo prendiamo un tizio qualunque che passa, lo mettiamo a letto con tua moglie, così sarà lui a morire e poi tu potrai godere degli effetti positivi di questa pozione. Nicia non ha nessuno scrupolo morale a far morire un passante a caso, si preoccupa solo che tutto rimanga segreto in modo che non venga arrestato per questo. Il problema è solo convincere Lucrezia. Per fare questo, Ligurio ricorre a Fratimoteo, che è un frate, quindi dovrebbe rappresentare la moralità, la virtù ecclesiastica, ma in realtà è un corrotto imbroglione e si presta molto volentieri, questo frate, all'inganno e convince Lucrezia, che come donna virtuosa, grande rispetto della Chiesa, che in fondo prendere questa pozione, innanzitutto visto che lo fa per il bene di suo marito non deve considerarsi un tradimento, e secondo il, argomenti molto capziosi ma che fanno presa, e secondo il bene è certo, cioè effettivamente verrà resa una nuova anima a Dio, come dice lui, cioè si farà un, si creerà un bambino, mentre il male, cioè la morte del passante, è incerto. Sostanzialmente riesce a convincerla, anche con l'aiuto di Sostratra, la madre di Lucrezia, che assolutamente, volendo diventare nonna evidentemente, vuole, anche lei contribuisce a convincerla di questo. Alla fine Lucrezia si convince. Come avrete tutti capito, il passante che viene trovato per strada dopo che la finta pozione è stata sottoposta a Lucrezia è proprio Callimaco. I due hanno una notte d'amore, alla fine Callimaco si rivela, rivela a Lucrezia anche tutto l'inganno, e Lucrezia, Lucrezia a sorpresa è ben contenta di quello che è accaduto e accette di diventare la sua amante abituale. In questo modo, tra l'altro, anche Nicia avrà dei figli, come si intuisce sul finale della commedia. Si intuisce perché ovviamente la commedia, essendo limitata nel tempo, siccome tutto si svolge in una giornata, non può prevedere i figli, ma si intuisce che così sarà. Quindi, alla fine, i due, cioè, l'innamorato riesce a far cadere la sua bella nelle sue braccia. Questa commedia è sicuramente fortemente debitrice alle commedie classiche. Punto di riferimento del rinaggimento sono sempre i classici e il teatro italiano, che sta muovendo i primi passi, si ispira molto fortemente alle commedie latine, in particolare di Plauto. E in effetti anche Machiavelli riprende alcuni elementi classici, a parte quelli tipici della commedia, quindi iniziare con difficoltà e finire in maniera positiva, con un lieto fine, anche se un lieto fine dal punto di vista dell'innamorato soltanto. Ma innanzitutto la trama generale, cioè il fatto che la trama si bai su un intrigo amoroso in cui si oppongono giovani e anziani. Il giovane ovviamente è colui che è destinato a vincere, l'anziano è il detentore del potere, in questo caso del potere coniugale. Nella commedia classica spesso gli anziani erano desiderosi di congiungersi con donne più giovani. E di estrazione borghese, questo perché, come in tutte le commedie classiche, i personaggi erano appunto cittadini normali, magari ricchi, ma mai nobili, come veniva nelle tragedie. Poi ci sono alcuni personaggi, il servo astuto, il parassita, in questo caso il parassita più astuto, ma anche il servo del suo contributo, il vecchio ingenuo, l'innamorato, sono tutti personaggi tipici della commedia plautina. E tra l'altro il nome Sostrata, appunto quello della madre, richiama direttamente una commedia di Terenzio, altro grande autore della latinità, che era la suocera in quel caso, e in effetti in qualche modo Sostrata e la suocera di Callimaco o di Nicia. E poi alcuni stratagemmi, lo scambio di persona, appunto in questo caso non accidentale ma voluto, perché Callimaco si presenta sotto mentite spoglie, la beffa e i danni di un ingenuo, sono assolutamente riprese. Tuttavia Machiavelli non si limita, come il primo Ariosto, a riprendere questi schemi, ma introduce anche elementi decisamente innovativi. Al di là dell'ambientazione moderna a Firenze, alcune rivisita i canoni tipici che abbiamo citato, adattandoli anche alla situazione moderna, quindi non è semplicemente esornativa l'ambientazione moderna, ma effettivamente è sostanziale. L'innamorato, per esempio, non è un innamorato passivo, normalmente nella tragedia classica gli innamorati erano, aspettavano un po' disperati, i languidi aspettavano gli eventi, invece Callimaco è fin dal primo momento attivo. Anche il vecchio sciocco, cioè Nicia, non è un buon accione, ma entrambi sono abbassati moralmente. Effettivamente Callimaco è sì innamorato, ma possiamo dire che sia veramente mosso dal nobile amore, no, lui si innamora, tra virgolette, di Lucrezia, solo perché sente dire che è bella, è quasi una sfida la sua, e l'aspetto carnale del possesso è assolutamente fondamentale, cosa che nella commedia classica passava assolutamente in secondo piano. Normalmente, alla fine della commedia classica, i due innamorati si sposavano, o quantomeno erano pronte, insomma, si capiva che sarebbero sposati. Qui invece i due diventano amanti, è chiaramente piuttosto diversa la situazione. E anche Nicia è assolutamente interessato, moralmente basso. E questo ci rimanda al messaggio etico di fondo, che è proprio della mandragola, che non è semplicemente una commedia, quindi uno svago, ma è una anche amara presa d'atto di vivere in un mondo dominato dalla corruzione. Nel prologo, effettivamente, Machiavelli dice proprio che per tutta o tra linea dall'antica virtù è il secolo presente, cioè il periodo attuale va fuori, non è più assolutamente virtuoso. E effettivamente nella mandragola tutti i personaggi agiscono per un interesse, per un interesse pratico, spesso economico, oppure anche il ugurio il proprio il gusto di riuscire in una beffa, ma in modo assolutamente amorale. Amorale è leggermente diverso da immorale, vuol dire senza che, senza considerare proprio la morale. Per loro la morale, la virtù, insomma, è assolutamente ignorata. Non viene proprio, non è neanche, diciamo, osteggiata in maniera, non è che si critichi la morale tradizionale, è semplicemente la signora. Quello che conta è il risultato, il che ovviamente può rimandare all'idea del principe, no? Che è giustificato nel compiere anche degli atti non morali per il suo scopo, il suo fine, cioè mantenere lo stato solido. Però c'è una differenza sostanziale. Il principe era giustificato a fare ciò perché avere uno stato solido era, secondo Machiavelli, fondamentale per il bene comune, cioè solo in uno stato solido si poteva vivere, si può vivere in maniera un po' migliore, decente, ecco, poi rimarrà sempre il male, ma comunque lo stato solido è fondamentale per il bene comune. Invece in questo caso i personaggi agiscono per interessi assolutamente privati e quindi non hanno questa giustificazione morale. Tuttavia, questo rientra, salto un punto poi su cui torno, sull'idea negativa di uomo di Machiavelli. Questa veniva esplicitata anche nel principe. Per Machiavelli gli uomini sono egoisti, pensano solo al proprio interesse e questo è evidente anche nel mondo della mandragola. C'è un personaggio apparentemente virtuoso, l'abbia detto più volte, Lucrezia. E tuttavia, Lucrezia tra l'altro è un nome, anche questo di origine classica. Lucrezia è una delle donne più virtuose della mitologia romana, quella che, suicidandosi dopo essere stata violentata dal figlio del re Tarquinio Superbo, dà l'avvio alla rivolta che porta all'inizio della Repubblica Romana. Quindi ha un nome molto impegnativo, no? È la virtù. Ma alla fine anche lei accetta di essere, diventare amante di Callimaco. Perché? Beh, qui ci sono state date diverse interpretazioni, ovviamente Machiavelli non lo dice esplicitamente. Una è un'interpretazione un po' vicina a quella di Boccaccio, cioè che la forza dell'amore, le eroine anche di Boccaccio spesso tradiscono, no? Ma perché? Perché l'amore è una forza naturale, talmente forte, che è impossibile opporsi. E così anche Lucrezia, vinta dall'amore, viene portata a tralasciare la sua virtù che l'aveva caratterizzata fin dall'inizio. O forse un'altra interpretazione perché lei è duttile, cioè proprio come viene detto nel principe che la grande virtù degli uomini è sapersi raccordare ai tempi, quindi sapere accettare la situazione e adeguarsi ad essa, così anche lei che prima era sposa lo faceva in modo virtuoso, adesso quando è diventata amante anche questo lo accetta, quindi si adatta ai tempi. Però c'è anche un'altra interpretazione meno positiva per Lucrezia, cioè che anche lei, che pure appariva così virtuosa, fosse in realtà ipocrita. Cioè spesso la virtù è soltanto ipocrisia, secondo Machiavelli, cioè è soltanto un'apparenza che serve a dare una certa immagine di sé, ma di fronte all'interesse viene meno. In fondo anche Fratimoteo si presenta come un frate virtuoso, ma poi in realtà è dispostissimo a essere corrotto e a corrompere. Dopotutto, ma qual è il giudizio che dà Machiavelli di tutto ciò? In realtà Machiavelli non dà un giudizio esplicito, però non può fare a meno di riconoscere il fatto che questo genere di comportamenti siano efficaci, cioè alla fine chi si comporta in maniera amorale vince, chi non lo fa invece viene sconfitto. In realtà qui nessuno non lo fa, però evidentemente i comportamenti di successo sono quelli che appunto sono amorali, sono un'attività legata in maniera precisa, intelligente allo scopo. Un po' appunto come era detto e teorizzato del principe. Questo però, abbia detto nel principe è giustificato per il bene comune, qui no. Quindi qui ho messo ammirata col punto di domanda, perché da una parte Machiavelli ammira l'efficacia di questi comportamenti, ammira l'uomo intelligente che trova soluzioni per superare gli ostacoli. Dall'altra però lui pensa che sarebbe auspicabile che i cittadini avessero invece delle virtù. Però purtroppo così non è, e questo è un dato di fatto che percorre tutta l'opera di Machiavelli, la mandragora, il principe e anche le altre opere.